Speriamo in vari degli aumenti no, certamente è una fase delicata perché nella prossimo autunno, ma in realtà dobbiamo cominciare a lavorarci adesso, i prezzi saranno significativamente alti e quindi riuscire a definire con un interlocutore stabile le politiche prossime è assolutamente importante. È certamente una delle priorità a cui anche nella valutazione di questa evoluzione politica si dovrà tenere conto. D'altra parte il dossier energia credo che sia ben alto e ben presente a livello di governo.